Benvenuti a Economicamente, nel mese di ottobre, il mese tradizionale dell'educazione finanziaria. E come Economicamente cavalchiamo questo percorso nel mese di ottobre, l'hashtag è sempre edufinoottobre 2022, in cui potete sui social divulgare poi questi filmati e questi video con gli ospiti che ci accompagnano nel mese di educazione finanziaria e quest'anno il tema è Costruisci oggi il tuo futuro.